giorno famiglia ho bisogno della colazione ora emozionato per il tuo primo giorno da infermiere abbastanza grazie mag mag scusa come funziona questa cosa papone tu non sai un tubo di medicina o in un infermiere c'è molto di più di un gergo incomprensibile da medico ad esempio quando è la prossima festività il memorial day quella dopo 4 luglio di subito natale dico natale e questo è fare l'infermiere anch'io sono d'accordo con chris non hai le qualità per fare l'infermiere tu sei impaziente e svieni quando vedi il sangue quello l'ho superato passami il ketchup non comprare un divano da svenimenti stewee a nessuno serve un divano per svenirci sopra stewee